Ehi, amici, io sono Ikezooki. Ike è bene, non è? Eh, vive, eh. Che ha detto? Eh, ha detto che le fa la Livornese. Eh, sa, con un po' di aglietto in un'accerolina. Le ha fatte a tocchetti. Grazie. Ma come, crudo? No, no, ha la piastra, fa... Crudo. Lo fa crudo. Mangiate, mangiate, mangiate per carità, non protestate, anzi sorridete. Ma non con le mani pazzi, con le bacchette. Ha capito? Con le bacchette. Grazie. 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 Buono Ragionier Fantozzi, lei mi ha ingannato Lei è più piccione di prima Ma no, è questo tipo di saponese che fanno Ha presente? Butta Va bene, va bene, si ingozzi anche quest'altra porcata Ma presto è perché ne ho abbastanza di lei e di questo posto What is this? Cosa è questo? Oh Ah, finalmente un po' d'arrosto Era ora Toso Pier Ugo Ma non... Lei è un assassino Assassino di vecchi merdi Non mi hanno capito Non sono un assassino Non è colpa mia, ve lo giuro Io non c'entro Io non volevo È un equivoco Abbiate pietà Credetemi Per favore, è un equivoco della cucina giapponese Io non volevo E allora mi faccio Mi faccio calacchini con le bacchette Mi dia una mano a lei, per favore Talla sotto il tavolo Scusi E allora... E allora... E allora mi suicido Mi suicido dalla masca Delle triglie crude Fedeli discepoli Discepoli, ehi, tu caifa Grande sacerdote, dammi dei pani No, no, no Non è niente pane qui Guaia chi chiede pane Soltanto riso Il pane è proibito E allora Eccezionalmente dal lago di Tiberiade Vi farò la moltiplicazione Dei 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 pesci E del riso In bianco E allora... E allora... Grazie a tutti.